Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per venerdì 1 ottobre. Sull'Italia insistono ancora le correnti atlantiche, abbastanza fresche, ma un po' anche inestabili, ma senza dar luogo a piogge copiose. Andiamo a vedere allora in dettaglio i fenomeni previsti, isolati, rovesci e temporali, sulle Alpi, Piemonte, Emilia, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e al Sud. Quando dico isolati intendo dire che non saranno dappertutto, all'incirca potrebbero interessare il 20-30% delle regioni citate. Le temperature massime saranno invariate rispetto al giorno precedente, quindi gradevoli, temperature massime intorno a 21-24 gradi al nord, regioni del medio adriatico 24-26 sulle regioni centrali e sulle regioni tirreniche 24-27 sul sud e sulle isole maggiori.